A Pesaro il maltempo fa riaffiorare cronici problemi d'allagamento. Parco mira il fiore fra tagli contestati e la nuova avventura di utopia. Tavulia inaugura la scuola attesa da 30 anni. La capitale della cultura accoglie il primo concerto dell'orchestra giovanile afghana. Sport VL in crisi è contestata dai tifosi. Buona serata, ben ritrovati a nostro telegiornale. Oggi è lunedì 8 gennaio e arriviamo dopo un weekend di maltempo che ha fatto riaffiorare sul nostro territorio cronici problemi d'allagamento esattamente nella città di Pesaro. Diverse situazioni segnalate anche da voi telespettatori che andiamo subito ad esaminare in questo primo servizio. Dopo due giorni di piogge persistenti ma di intensità moderata, a Pesaro riaffiorano vecchi problemi su zone dai cronici allagamenti. Hanno infatti destato stupore e disappunto le immagini delle panchine dello stadio Benelli, ieri completamente sommerse d'acqua, a nemmeno quattro mesi dal completamento dei lavori del rifacimento del manto erboso e del suo sistema di drenaggio. Il tutto 24 ore dopo Vispal di Serie C. Critiche da parte dell'opposizione in Consiglio Comunale a cominciare da Daniele Malandrino sul lavoro reputato tanto oneroso quanto ancora inefficace. Pronta oggi la replica dell'assessore Riccardo Pozzi che in un comunicato ha precisato come quanto accaduto sia stato semplicemente una mancata attivazione degli automatismi che permettono alle pompe di smaltire l'acqua. Una situazione che è stata risolta in poche ore con l'attivazione manuale delle pompe tant'è che l'avessi allenata regolarmente anche questa mattina. Per Pozzi si tratta di un incidente che si sarebbe potuto evitare ma l'intervento che è stato realizzato complessivamente sul Benelli è stato ottimo. Pozzi che ammette dunque come si stiano valutando anche azioni legali nei confronti di chi ha esagerato proferendo gravi falsità sull'accaduto. Non solo lo stadio Benelli, la domenica ha visto allagarsi anche il campo scuola di Via Respighi dove da tempo manca un corretto sistema di reggimentazione delle acque. Puntuale si è allagato anche il sottopassaggio stradale di Loreto col traffico deviato per tutta la mattinata di domenica in attesa del drenaggio e dell'annesso monitoraggio della crescita delle acque del torrente Genica. Criticità croniche come quelle del centro direzionale Benelli dove ad ogni acquazione si creano violenti scrosci d'acqua all'interno della struttura residenziale e commerciale in allagamenti allargati anche alle vicine strade marciapiedi. Piogge a Pesaro ma anche prime imbiancate di neve sulle cime del nostro entroterra. Le immagini che vi mostriamo infatti si riferiscono alle prime precipitazioni nevose di questo inverno registrate nello scorso weekend fra Monte Carpegna, Monte Catria e Monte Petriano. Nevicate fin qui non abbondanti né supportate da un abbassamento delle temperature che consenta di dare il via alla stagione sciistica sugli impianti di risalita della provincia. Anno nuovo ma vecchie polemiche riguardo alla gestione del parco Miralfiore su presunti tagli contestati da associazioni ambientalistiche e non solo. Preso di mira in tal senso è proprio l'assessore Enzo Belloni che oggi ospite nei nostri studi ha dato la sua versione su quanto accaduto all'interno dell'area verde della città. Vediamo. È una polemica protestuosa, forse solo politica per cercare un po' di visibilità. Il parco è diventato uno strumento di battaglia politica specialmente con certi pseudo alleati. Sul parco non abbiamo fatto niente sostanzialmente, abbiamo rimosso delle piante che erano cadute sul sentiero dove passano le auto di controllo, delle forze dell'ordine e abbiamo ripulito l'area verde a ridosso del parco giochi. Quindi è stato fatto un lavoro di manutenzione sostanzialmente, ma molti hanno fatto articoli sul giornale, polemiche, senza essere mai stati al parco, senza metterci i piedi dentro e non sapevano nemmeno che cosa avevamo fatto. Ripeto, abbiamo fatto solamente un lavoro di piccola manutenzione, tronchi a terra e pulizia del sottobosco a ridosso dell'area giochi. Un lavoro vero era stato fatto circa un mese e mezzo fa, prima del grande evento. Avevamo affidato un lavoro di circa 20 mila euro per la potatura e il taglio degli alberi, quelli già secchi e la potatura delle piante, quelle più grandi, sul viale che porta alla villa, lungo la ciclabile di via Cimarosa, lungo la ciclabile di via Solferino, se ci passate si vede chiaramente, tant'è che nonostante il forte vento e le centinaia di piante che sono cadute in tutto il territorio, lì non abbiamo avuto un crollo nelle aree dove siamo intervenuti. Io vorrei sottolineare che stiamo parlando di un parco urbano, non del bosco delle Cesane, parco urbano dove la priorità è la sicurezza, tutto il resto viene dopo. Noi non tagliamo niente, sulla stampa avevano milantato il presunto taglio all'interno del bosco storico, il bosco storico non lo abbiamo mai toccato, non lo toccheremo mai, non raccogliamo nemmeno le foglie, quindi si tratta, non lo so come chiamarlo, come definirlo, di terrorismo psicologico nei confronti miei o di altri, non lo so, a me non mi scalfisce minimamente. Noi continuiamo ad andare avanti nel rispetto di tutti, soprattutto della sicurezza, della natura, sono 23 ettari di parco nel cuore della città dove tutte le sensibilità possono convivere. Siamo riusciti a mettere in piedi anche il proseguire il discorso con Utopia, grazie alla collaborazione con la Gulliver, vogliamo portare all'interno del parco anche nei mesi quelli meno fortunati dal punto di vista della fruibilità come sono quello di dicembre, gennaio e febbraio gente dentro, utilizzeremo anche il progetto Utopia per portare la gente al parco, poi dalla primavera in avanti tutti gli eventi che negli ultimi anni siamo riusciti a mettere in piedi. Continuiamo a restare nel parco Miralfiore dove oggi è iniziata la seconda avventura del festival Utopia. Dopo il successo di quest'estate all'istituto alberghiero Santa Marta, il progetto di bar e ristorazione inclusiva portato avanti dalla Ollus Gulliver riparte anche in versione invernale in questa nuova location. Lunedì 8 gennaio parco Miralfiore, locale Serra degli Agrumi, riparte da qui l'avventura di Utopia, riparte da oggi dopo l'esperimento fortunato di successo di questa estate negli spazi del cortile dell'alberghiero Santa Marta, l'associazione Utopia legata e nata dalla Ollus Gulliver riparte con un'esperienza di lavoro inclusivo, con un'esperienza di ristorazione e di recettività davvero molto particolare che è pronta ad accogliere nuovamente i cittadini pesaresi. Oggi apre ufficialmente il bar Trattoria Sociale Utopia al centro del parco Miralfiore, tanti ragazzi contenti, tante persone anche da questa mattina. Iniziamo questa avventura, speriamo che ci porti lontano. Dalla mattina alle 7 fino alle 6.23 saremmo aperti, mattina abbiamo colazioni con prodotti fatti dai ragazzi, torte, biscotti, pasticceria, tutto interamente fatto dai ragazzi la sera o la mattina stessa. A pranzo avremo un pranzo normale, quindi un primo, un secondo, insalate e piadine e la sera cena con due primi o due secondi a scelta. Musica del vivo quasi tutte quante le sere, dalle 19 aperitivi, quindi un ambiente caldo, caloroso che aspetta che l'intera città lo abbracci. Il festival ci ha permesso di sperimentare una miscela di lavoratori che siano lavoratori con disabilità e senza disabilità insieme. Il festival ci ha dato anche, ci ha fatto comprendere che la città è pronta ad accogliere questo nuovo sistema lavorativo, queste nuove imprese sociali e ha risposto con grande fiducia. Quindi questo qui è il primo ramo lavorativo vero e proprio, quindi adesso dobbiamo ritornare tutti al Parco Miralfiore che è un luogo centrale, centrale per la città, diventa un simbolo questa centralità che ci dà l'opportunità di parlare di lavoro in modo differente. Siamo pronti a accogliere la diversità e di incontrarci con la diversità. 60 ragazzi che ci seguono, avremo 15 ragazzi per turno, dal lunedì al venerdì quei ragazzi che hanno finito la scuola, le varie scuole di Pesaro. Nel weekend avremo invece i ragazzi dell'alberghiero, del Cecchi, del Mamiani, del Mengaroni, tutti quei ragazzi che ancora frequentano la scuola ma hanno voglia di mettersi in gioco e costruire insieme a noi. Ed ora da Pesaro ci spostiamo a Tavuglia perché risale a circa 30 anni fa, pensate, la prima idea di realizzare una scuola primaria nel comune di Tavuglia. Un progetto ambizioso arrivato a compimento ieri con il taglio del nastro di un nuovo istituto che già questa mattina ha accolto gli alunni tavugliesi sui propri banchi. Ieri il taglio del nastro, oggi i bambini che si siedono sui banchi di un edificio scolastico nuovo di zecca è atteso da anni. È stata inaugurata ieri la nuova scuola primaria di Tavuglia intitolata a Vittorio Giunta. Una nuova scuola all'avanguardia tecnologica e di sostenibilità che ospiterà fino a 250 ragazzi completando un polo scolastico tavugliese da 0 a 14 anni. Finalmente ci siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. È la prima frase che mi è venuta in mente pensando a questa scuola, a questo lavoro. È stata lunga, piena di ostacoli e questa grande squadra che ha lavorato per vincere la partita alla fine ce l'ha fatta. Il progetto iniziale costava 4 milioni e 350 completamente coperti dai fondi della programmazione triennale 2018-2020, quindi MIUR. Poi nel tempo è diventata un'opera PNRR, quindi siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che scadono nel 2026 i lavori e noi questa è una delle prime opere che finiamo importante perché alla fine è costata 6 milioni. Io sono molto emozionata, devo dire, perché come tutti i sindaci penso che sia uguale per tutti inaugurare una scuola per mettere a dei bambini che dal vecchio passano al nuovo è la storia di un paese. Noi riusciamo anche con questa scuola a portare a compimento un progetto ambizioso che è un polo scolastico 0-14 anni. I prossimi mesi concluderemo anche i lavori per l'asilo nido e arriviamo quindi così a completare questo ciclo. Questo plesso è la nuova primaria di Tavuglia che si va a integrare in un polo più ampio, come diceva la sindaca, che comprende l'infanzia, la scuola secondaria e tra qualche mese comprenderà anche il nido. Quindi è un esperimento pilota a livello regionale per una formazione, un percorso 0-14 anni. Come vedete questa è una scuola all'avanguardia, un plesso che offre tutte le possibilità per attuare una didattica innovativa, una didattica che veda i nostri ragazzi sempre più attivi e sempre più protagonisti e che educhi di per sé alla collaborazione, al rispetto e al lavoro di squadra. Questa è una scuola che ha delle caratteristiche molto importanti perché essendo una struttura che ha delle prestazioni sismiche altissime è una struttura che ha anche delle prestazioni energetiche e acustiche molto elevate. Considerate che è una struttura, è un edificio NZEB. Parliamo di un edificio che è costituito da un corpo principale che ha la scuola di circa 1.600 metri che è collegato a una menza e con un ponte coperto e chiuso è proiettato verso la palestra superiore e quindi parliamo di un edificio che ha una superficie coperta di circa 2.500 metri. È il secondo edificio che inauguro da questo inizio dell'anno e devo dire che sono estremamente felice perché il mio sogno, come ho detto a Subissati che ha fatto questa scuola e alla sindaca Francesca Paolucci è che il mio sogno è quello che si vada in una scuola col piacere di andarci. Oggi molte scuole hanno dei luoghi angusti dove andare, non luminosi. Non è idoni, secondo me, alla scuola che si fa oggi a far volare la fantasia. Questa qui la vediamo, è bellissima, è stupenda, ha una visuale a 360 gradi ed è un posto luminoso, un posto sicuro e un posto ecocompatibile perché questa struttura è ecocompatibile. Questi sono gli investimenti migliori perché sono gli investimenti sul futuro. Siamo orgogliosi di come l'amministrazione comunale e la città di Tavuglia ha lavorato e siamo anche molto orgogliosi per l'occasione e l'opportunità che si darà a questa comunità di poter usufruire di una bella struttura come questa. Non solo Tavuglia, sabato infatti un nuovo edificio scolastico è stato inaugurato anche a Fermignano. Scuola in via Donizzetti che è stata intitolata la memoria di David Sassoli, ex presidente del Consiglio europeo, scomparso prematuramente nel 2022. L'edificio, già da questa mattina, ha cominciato ad accogliere gli allievi fermignanesi in una superficie di 10.700 metri quadrati di cui 7.000 di verde che ha reso possibile la costruzione di una pista d'atletica e campi da mini volley e mini basket. All'interno del fabbricato trovano posto 20 aule in grado di ospitare fino a 500 studenti, un'aula magna, la palestra, gli spogliatoi, una segreteria e una biblioteca. Si tratta di un progetto dal valore di 5,3 milioni di euro, un milione provenienti dal GSE, 500 mila dal bilancio comunale, il restante dal bando regionale per l'edilizia scolastica. Quella di ieri è stata purtroppo anche una domenica funestata da due lutti nella sanità provinciale. All'ospedale di Pesaro è infatti morto il ginecologo Girolamo Martino, medico noto soprattutto a Mondavio, dove Martino si candidò a sindaco durante le ultime lezioni amministrative. Martino soffriva da tempo di patologie respiratorie ed è deceduto all'età di 62 anni dopo una crisi cardiaca. L'ordine degli infermieri piange invece la scomparsa di Rosanna Ardone, venuta a mancare ieri all'età di 78 anni dopo una lunga carriera da infermiera nel reparto di cardiologia dell'ospedale San Salvatore. Ed ora invece cambiamo argomento, vi mostriamo uno dei tanti appuntamenti legati all'epifania avvenuti in questo fine settimana. Tra i più suggestivi l'arrivo dei Remagi a conclusione dell'evento Betlemme a Talacchio. La ricorrenza ha organizzato un corteo verso la chiesa di San Michele Arcangelo, dove si è tenuta la tradizionale benedizione delle famiglie. L'orchestra sinfonica Rossini, che in questo 2024 celebra i suoi 30 anni, dà il via ad un ciclo di concerti dedicati a Beethoven. Primo appuntamento giovedì 11 gennaio alle ore 21 al Teatro Rossini, con il concerto dal titolo Beethoven Opera Prima, in cui l'orchestra, diretta da Daniele Agiman, farà riecheggiare le inconfondibili sonorità del grande compositore tedesco. Solista del concerto sarà la pianista Anastasia Mustafina, del Conservatorio Rossini. Continuiamo a parlare di musica, perché un altro concerto darà invece il via domani al primo appuntamento di carattere internazionale del 2024 di Pesaro, capitale della cultura. Ospite del Teatro Rossini sarà infatti l'orchestra giovanile afghana, rifiugiatasi in Portogallo dopo l'arrivo del regime dei talebani. Orchestra che proprio a Pesaro si esibirà con il suo primo concerto europeo. L'apertura degli eventi internazionali di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, viene affidata a Music for Freedom, orchestra Olympia meets Afghan Youth Orchestra. Si tratta del primo concerto italiano dell'orchestra giovanile dell'Afghanistan che incontra l'Olimpia di Pesaro. Un concerto in programma domani, martedì 9 gennaio alle 21, al Teatro Rossini. A 24 ore dall'evento, il comune di Pesaro ha accolto questa mattina la giovane orchestra diretta da Tiago Moreira da Silva e Ahmad Sarmast, fondatore e direttore di Afghanistan National Institute for Music. Sarà un concerto che finalmente vedrà realizzarsi il progetto di gemellaggio che abbiamo iniziato nel lontano 2019 e che poi per il Covid e poi per l'arrivo dei talebani e per altri impedimenti ci ha fatto arrivare ad oggi. Il concerto vedrà un programma che è incentrato sulla musica tradizionale afghana e in generale del Medio Oriente per cui ci sarà un'apertura in cui potremo ascoltare pochi ragazzi eseguire su degli strumenti tradizionali afghani delle musiche originarie. Dopodiché si andrà con l'orchestra al completo e ci saranno due tributi alla musica occidentale, quindi con Brahms e Dvorjak. Dopodiché continuiamo ad ascoltare musica tradizionale ma per orchestra sinfonica. Il concerto è unico in Italia e l'ansamble è la prima volta che in Italia e in generale dopo essere stato a Ginevra, all'ONU possiamo dire che ci pregiamo della gioia di averli qui come primo teatro italiano. Questo è il primo concerto italiano dopo aver suonato all'ONU e a Ginevra quindi siamo veramente felici di poter accogliere una parte della formazione dell'orchestra giovanile afghana assieme all'orchestra femminile, in questo caso l'Olimpia di Pesaro. Sarà una bellissima serata al Teatro Rossini che appunto segnerà non solo l'importanza e il valore internazionale della musica rispetto alla pace e rispetto soprattutto alla democrazia ma anche un'occasione artistica di altissimo livello con i giovanissimi interpreti a partire anche dal giovane direttore di grande richiamo e ovviamente anche l'onore di avere con noi Ahmed Sarmast che è una sorta di Nobel della musica se esistesse che è stato il protagonista negli anni di questa esperienza così significativa che si è tenuta in Afghanistan e che ora prosegue in Europa. Ci abbiamo tenuto molto a rendere noto quello che stava succedendo anche all'interno della rete scolastica pesarese perché i ragazzi che suoneranno dall'Afghan Youth Orchestra sono ragazzi dai 14 ai 20 anni quindi abbiamo voluto far sapere ai ragazzi dei licei quello che stava succedendo e avremo un nutrito numero di studenti del liceo Mammiani che verranno accompagnati da qualche docente e questo ci fa veramente piacere perché la musica arriva anche ai ragazzi più giovani. E siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale così come tutti i lunedì l'ultimo servizio lo dedichiamo alle notizie di sport è stato un weekend difficile soprattutto per la crisi in corso alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Continua l'inverno dei preoccupanti involuzione della VL VL che inaugura il suo 2024 cadendo in casa con Sassari 69 a 79 al termine di una partita surreale in cui esplode la contestazione dei tifosi con la curva che abbandona anzitempo il match. Un gesto d'impatto all'interno di una partita in cui la VL gioca un buon primo quarto prima di affondare su un clamoroso meno 30. Altrettanto clamorose però la rimonta che si ferma al meno 4 a 2 minuti dal termine. Finale in cui Sassari riemerge vincendo la contesa e affossando la VL in piena zona retrocessione. Nel calcio Befana amara per la Vispesaro che incappa nell'ennesimo pareggio ancora una volta quando era un passo dalla vittoria. Albenelli finisce 1 a 1 lo scontro diretto con la Spal in cui la Vispes va in vantaggio dopo appena 3 minuti col quarto gol stagionale di Carson questa volta su colpo di testa servito da Blumamona. Vantaggio che dura 90 minuti fino a quando al quarto di recupero la pressione ferrarese trova il premio su calcio d'angolo di Maestro svirgolato nella propria porta dalla deviazione di Peixoto. Nel calcio a 5 invece l'Ital Service lotta la pari contro Napoli in terra campana per almeno tre quarti di gara. Nel finale i campani scappano via e si impongono 4 a 1 rendendo Vano il gol dell'ultimo acquisto Moab. La sconfitta nell'ultima diandata decreta anche il tabellone del primo turno di Coppa Italia. Agli ottavi di finale il 23 gennaio sarà gara secca sul campo della Sandro Abate. Sorride invece l'altra squadra di casa Ital Service, il Loreto Basket, che inaugura il 2024 con una vittoria. Al pala Megabox la scuola di Foglietti batte Rosetto con un convincente 94 a 76. Impianto di Campanara in cui 24 ore prima aveva continuato a vincere pure la Megabox Vallefoglia che contro Bergamo trova il terzo successo casalingo consecutivo. Una vittoria per 3 a 1 con i parziali di 25 a 20, 22 a 25, 25 a 18 e 25 a 13 in una partita che ha legato sport e cultura ospitando il simbolico passaggio di consegne fra Bergamo capitale della cultura 2023 e Pesero capitale 2024 fra il sindaco Lombardo Giorgio Gori e l'omologo pesarese Matteo Ricci. Eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale. Vi ricordo che questa edizione la potrete ritrovare anche alle 20 e 30 e in tutte le repliche che sono previste fino alla giornata di domani mattina. Intanto vi ricordo gli appuntamenti per questa sera. Questa sera infatti vi consigliamo di restare con noi alle 21 e 20 perché vi raccontiamo l'infinito, il centro di urno per adulti e anziani. Un bellissimo approfondimento su questo centro di urno che si trova proprio a Morciola nel comune di Vallefoglia e quindi è una realtà che abbiamo voluto raccontarvi. E poi domani vi aspetto alla rassegna stampa chiaramente puntuali alle 7.20 nella prima edizione in diretta sul canale 80 e sulla nostra pagina Facebook e anche sulla nostra applicazione. E poi ancora domani sera una nuova puntata di Amministrando. Iniziamo, anzi iniziano a scaldarsi i motori per quelle che saranno le prossime elezioni amministrative. Saranno giorni di fuoco, giorni di grandi svelamenti quindi seguiteci perché Rossini TV è la TV che vi dà tutte queste informazioni. Domani sera intanto ci sarà un bellissimo dibattito da non perdere. Alle 21 e 20 avremo Enzo Belloni che è assessore al comune di Pesaro ed Emanuele Gambini che è consigliere comunale. Come sempre grazie per essere stati con noi anche questa sera. Il consiglio è sempre quello di seguirci sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram e scaricare la nostra applicazione. Buona serata. Grazie.